Chi è il paese di pincerelle? Chi è il paese di un campo sintetico? Chi è il paese... Oh, c'è lì! Dove i palloni sono sempre palloni d'amore. Ah, ma con che giochi oggi? Eh sì, tengo i scarpini da Nike. C'è il problema di chi è il paese di farlo.